ciao ragazzi visto che recentemente ho raggiunto il grande traguardo di un milione di iscritti ho deciso di fare questo video per dimostrarvi comunque che non mi sono montato la testa e che sono una persona con i piedi per terra quindi volevo fare un piccolo video così come una volta dove ci siamo io, voi e le vostre domande a cui rispondo oggi andremo a rispondere a domande interessantissime e soprattutto pian piano mi vedrete veramente agonizzare qui per terra perché già mi sento tutto scomodo iniziamo con la posizione più comoda così, di schiera allora, prima domanda visto che hai messo la musica di Stranger Things, personaggio preferito? è difficile sceglierne uno perché non è che c'è un vero e proprio personaggio preferito forse Robin, ma non tanto per il personaggio che è all'interno di Stranger Things ma per l'attrice che è la figlia di Uma Thurman, Maya Thurman e mi ricorda veramente una piccola Uma Thurman non riesco a non pensare a Kill Bill ogni volta che la vedo quindi mi sta simpatica Rick, ti sei abituato a Cama Senza Barba? non mi abituerò mai a Cama Senza Barba anche se sinceramente non abbiamo neanche avuto il tempo di, come dire, godercelo Cama Senza Barba che subito gli è ricresciuta, gli è ricresciuta subito e quindi, quindi niente adesso è praticamente come prima peccato, avrei voluto vedere il suo volto per più tempo ma approfitto per dire che c'è anche un video integrale di Cama che si taglia la barba già c'è un video commemorativo di questo specifico e speciale momento riservato agli abbonati quindi se volete vederlo, abbonatevi lo trovate nel tab community come ti sembra Cama Senza Barba? allora, io penso che ci sia molto meglio Senza Barba infatti molte persone nei commenti hanno scritto che ci stava particolarmente bene anzi, stranamente bene ma l'altra cosa divertente è che Francesca ha visto Cama Senza Barba e gli ha detto che ha l'aria più intelligente ma non soltanto, gli ha detto che ha l'aria più intelligente più onesta, più sincera non so, gli sembrava totalmente un'altra persona e anche io sinceramente mi dava la sensazione non so, come se avessimo licenziato Cama e fosse venuto a lavorare da noi un apprendista che lavora, sta lì e ha tanti anni davanti per poter imparare il mestiere e invece no, è ancora Cama come vi è venuta l'idea del Banana Pong? sistemiamoci per chi non lo sapesse, cos'è Banana Pong? Banana Pong è un appuntamento che c'è ogni venerdì alle 5 che facciamo in live dove sostanzialmente parliamo di vari argomenti ci stanno tutti i membri del nostro team e quindi le persone hanno modo di vederci chiacchierare, scherzare, eccetera e conoscere anche le persone che lavorano con noi c'è anche il canale Banana Pong se volete andarvi a vedere gli scorsi podcast chiamiamoli così quindi nel caso andate a iscrivervi e l'idea ci è venuta perché ci piace tanto il ping pong qui in studio ci giochiamo ogni giorno e abbiamo delle piante finte che sono tutti quanti banani e quindi Banana Pong poi c'era già il muro giallo quindi ci stava particolarmente bene poi ma se tu dovessi scegliere una razza di cane quale sceglieresti? è difficile perché ci sono veramente un sacco di razze di cani sono troppe quindi così a freddo mi verrebbe da dire, non so boh, il gatto sì, il gatto, il gatto non scenderò mai a compromessi più gatti per tutti perché sei... aspetta cambiamo cambiamo posizione aspetta, aspetta ah non riesco più a trovare una posizione comoda allora perché sei così scemo? no, insulto cosa, perché questa domanda? cioè tu guardando i miei video pensi questo? che io sia scemo? perché? perché? cioè non c'è nessuna motivazione eh non capisco veramente da che cosa è dovuta questa considerazione Marti fai un video dove presenti tutti i vostri collaboratori ci sto lavorando ci sto lavorando in realtà sto aspettando che mi arrivi ufficialmente il milione quindi il traguardo insomma il premio così da poter fare un video in cui vi mostro insomma tutti i membri del team ma se nel frattempo volete conoscerli su Banana Pong li trovate tutti il lavoro che fai ora è come lo pensavi da piccolo? uh questa domanda è interessante in realtà riflettendoci il lavoro che faccio ora non è per nulla come lo pensavo da piccolo anzi la cosa di cui mi rendo conto è che da piccolo non potevano esserci neanche i presupposti i mezzi per poter concepire un lavoro di questo tipo questo lavoro a tutti gli effetti non esisteva quando ero piccolo quindi non potevo pensare di farlo io da piccolo volevo fare quello che filmava gli animali nei documentari pensate un po' mi ero anche informato su che scuola dovevo fare poi a un certo punto ho detto voglio fare il manga voglio fare il mangaka quindi era comunque una cosa totalmente diversa e invece mi sono ritrovato qui così davanti a voi a fare a fare questo bellissimo lavoro lo vedete i tuoi capelli quando ti svegli come sono? i miei capelli quando mi sveglio sono veramente orribili già se dovessi licenziare qualcuno licenziaresti Kama o Korrad? ma la vera domanda è perché scegliere solo uno dei due? scherzo 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 Kama e Korrad? no non riuscirei a scegliere perché ogni membro del nostro gruppo è un membro assolutamente fondamentale se dovessi licenziare Kama mancherebbe un Kama se dovessi licenziare Korrad mancherebbe un Korrad quindi no stiamo bene così mi spiace veramente scomodo più in più poi mi sto avvicinando sto facendo invece manteniamo le distanze sei ancora pseudo vampiro depresso? cosa significa pseudo vampiro depresso? questo qua è veramente un bel modo per riassumere il mio stato d'animo di questo ultimo periodo se devo essere sincero l'avvicinarsi delle vacanze mi sta dando un parlume di speranza perché so che pian piano arriverà quel momento in cui dovrò prendermi una pausa i video non usciranno per un mesetto infatti ve lo dirò pian piano i video andranno a scemare fino a che non ci sarà un mese in cui diremo oh torniamo direttamente a settembre e quello sarà il momento in cui potrò riposarmi 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 fino allo sfinimento così che io posso arrivare a un certo punto in cui dico basta riposare voglio lavorare ed è quello il momento in cui torneremo però sì per il momento sono ancora vampiro sicuro perché mi piace troppo lavorare la sera ora che obiettivi ora che obiettivo hai read comics read comics deve fare per forza queste domande super impegnate che mi mettono un'ansia ma guardate allora il mio obiettivo attuale ve lo dico proprio sinceramente è uno molto semplice ma altro molto complesso allo stesso tempo io vorrei raggiungere una stabilità sì una stabilità una stabilità nei contenuti che sto girando nei contenuti che pubblico nei progetti che stiamo portando avanti quindi decidere un metodo di lavoro che possa essere sempre quello e garantirmi tranquillità e stabilità anche perché senza stabilità non si può portare avanti nulla c'è sempre incertezza e questa incertezza poi mi fa diventare vampiro depresso oddio mio stanno finendo le posizioni comode mi sa che adesso già ragazzi risponderò così rifarai mai la sfida di ridisegnare i nostri lavori? ma ma l'ho fatta di l'ho fatta di recente cioè è già sul canale cioè non è passato poi così tanto tempo dall'ultima volta rifarai mai l'ho rifatto lo lascio alla fine del video per vederlo qual è la cosa più strana o figa che hai comprato su internet? strana o figa? boh forse lo stira camice automatico che Francesca ama così tanto perché occupa un sacco di spazio e può darsi che sia quella anche se devo dire tantissima soddisfazione me l'hanno data i mini droni già i mini droni non so quanti di voi ce l'hanno presente però sono carinissimi piccoli così li fai volare per 5 minuti ma sono 5 minuti di gioia e spensieratezza arriviamo alle ultime due domande senti mai il bisogno di staccarti da tutto completamente per un periodo? eh ma secondo me questa qua è una condizione in cui ci ritroviamo ciclicamente tutti quanti man mano che arriva il periodo delle vacanze io spesso mi domando no? c'è sempre questa costante quando arrivano le vacanze raggiungiamo un livello di stress accumulato che veramente ci porta fino allo sfinimento e poi stiamo lì a dire cavolo avremo proprio bisogno di andare in vacanza e poi andiamo in vacanza e io mi domando le vacanze ci sono perché perché sappiamo che a livello collettivo raggiungiamo tutti quanti un punto veramente super mega stressante allora lì abbiamo messo le vacanze o è proprio perché sappiamo che stanno arrivando le vacanze che pian piano non ce la facciamo più? cioè se le vacanze ci fossero in un altro mese dell'anno ci stresseremo arriveremo al punto di non ritorno sempre verso la prossimità delle vacanze? oppure sempre in questo periodo qui giugno luglio chi lo sa? ultima domanda guarderai il mio fantastico forse meme di reddit? questa è una bella domanda sicuramente lo guarderemo forse bisogna capire se il video di reddit sarà su questo canale o sul canale react perché sono ancora indeciso fatemi sapere voi che cosa ne pensate volete i video di reddit su questo canale o sul canale react? facciamo un bel sondaggino dove scrivete nei commenti hashtag react se lo volete sul canale del react o qua se lo volete qua nel dubbio iscrivetevi anche al canale react che non si sa mai e a quello tutorial tutti tutti quello tutorial l'ho pubblicato pure di recente un video non so se l'avete visto per il resto si sta particolarmente bene qui sul pavimento mi verrebbe quasi da non rialzarmi mai più per il resto per il resto approfittiamo di questo momento per chiacchierare voi come state? andate in vacanza? spero di sì nel caso godetevela perché io cercherò di godermi forse la mia non so ancora dove andremo stiamo ancora decidendo per il resto è un periodo di cambiamento questo qui stiamo facendo anche delle modifiche qui in studio per permettere alle persone di lavorare più comodamente infatti non so se avete visto che c'è una nuova arrivata c'è la vigna con noi che ora fa parte del team e quindi siamo una persona in più iniziamo ad essere un bel gruppo un bel gruppo numeroso che per questo spazio insomma è molto da 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 sostenere quindi stiamo facendo un po' di lavori per permettere a tutti quanti di essere distribuiti nel migliore dei modi e sfruttare al massimo ogni spazio di questo studio che pian piano diventa sempre di meno ma comunque sono molto contento di questo dal lato studio sono molto contento il team che abbiamo creato è un team che mi piace tantissimo tutte le persone che ora lavorano con noi anche da ormai da un bel po' di tempo lavorano sempre al meglio sono super propositive non ho veramente nulla di cui lamentarmi da questo punto di vista per questo cerco anche di impegnarmi per dare ognuno un ambiente di lavoro anche divertente insomma un ambiente di lavoro leggero dove poter lavorare insomma il miglior ambiente di lavoro che io possa che io possa offrire poi un giorno chi lo sa quando lo spazio proprio mancherà magari sarò costretto a spostare tutto in un altro ambiente di lavoro però per adesso questo spazio questo ufficio ci sta accogliendo bene dal lato dall'altro lato lato video lato canale eccetera sono sempre pieno di domande sono sempre pieno di domande ogni tanto ci penso ci penso al fatto se non so ripenso a me quando ero un po' più piccolino ai video che facevo eccetera e mi domando se in quel periodo magari ero più felice di adesso oppure no o se ero uguale perché sono felice anche adesso soltanto che mi sembrava che le cose fossero più semplici un tempo e non so se effettivamente lo erano veramente o se è soltanto perché poi crescendo uno si pone un sacco di domande una costante veramente io credo di tutte le persone che crescono e che iniziano a farsi problemi a porsi domande a non a farsi problemi a porsi domande e le domande a cui non si riesce a trovare risposta diventano problemi o possibili problemi futuri problemi probabili problemi quindi uno si ritrova a vedere problemi da tutte le parti e pensa cavolo ma prima non c'erano tutti questi problemi oppure forse semplicemente mi facevo meno domande e quindi stavo meglio stabilità questa sarà la parola che da settembre in poi cercherò di rendere realtà sapere che vengo qui in studio realizzo le mie idee sul primo canale escono un video uno shorts ogni settimana i montatori hanno sempre qualcosa da montare le persone che vengono qui a lavorare hanno sempre qualcosa su cui lavorare sapere cosa fare quindi per il canale react se pubblicare lì i reddit oppure no alla fine sì 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 sono tutte quante decisioni che posso prendere io e io soltanto magari qualcuno di voi potrebbe dirmi non farti condizionare fai quello che vuoi il problema è che arrivi a un certo punto in cui alcune cose alcune cose potrebbero andar bene sia in una direzione che in un'altra io potrei pubblicare qualsiasi video in qualsiasi canale insomma però ci tengo anche a sapere che cosa ne pensate voi insomma o forse anche qui mi sto facendo troppe domande e dovrei semplicemente prendere una decisione ma ma vabbè mi domando a che serve andare dallo psicologo se io a voi guardate sto anche nella stessa posizione in cui stare dallo psicologo sdraiato guardo il soffitto e parlo con voi è perfetto tanto alla fin fine questo è quello che ci serve qualcuno che che ci ascolti e nel mio caso sono contento di avere voi quindi grazie questa posizione non è comoda forse effettivamente le persone vanno dallo psicologo principalmente perché lì c'è la poltrona no grazie a tutti